good morning anche se direi più buon pomeriggio visto che sono le 3 35 qui in italia mister master maestro o semplicemente o semplicemente David Lynch it's December 14 2021 and it's Tuesday here in Naples 60 Fahrenheit around 16 celsius and this means that è quella giornata veramente 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 mite come in questi giorni in questo periodo once again infatti siamo proprio appunto nella perfettamente nella media come ci ho detto ieri oggi credo che non penso a nulla in particolare o almeno non mi viene nulla in particolare però però nel caso ve lo scrivo in descrizione se mi viene in mente però today I would like to wish a very 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 28 birthday to my sister Rosaria e in qualche modo ho dedicato le ho dedicato diciamo il il previa e vedi ieri di cui già parlato nel video di ieri di interpretazione questa signora Raina la mia versione strumentale world spins e poi anche un po gli aripezzi giulicruis che diciamo ho caricato in questi giorni magari scrivo i vari link in descrizione se ho il tempo il tempo ah anyway as you just see from the window today we have we have once again those beautiful blue skies and golden sunshine and i think rimarranno all along the way fino alla al venire della sera cioè praticamente tra due ore anche meno e come avevo detto quindi in questi giorni ci sarebbe stato il sole consecutivamente a diversi giorni bene meglio così nulla da aggiungere se di this so from the mythical window in the red curtain sublime oggi nulla da aggiungere and its Greed Eeeh Eeeeeh Eeeeeh Eeeeh Eeeeeh Rollershooter Behind me On the top Ora Aaron the shot Quindi Non mostrerò nemmeno le palle those beautiful giant fantastic and magical golden and white balls from the Christmas Grand Prix non le mostrerò perché ce l'abbiamo anche oggi those beautiful blue skies and one and sunshine così come saluto anche dalla that other mythical window with the white curtain and the gray roller shooter and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 ever and great day all the people of all of the channel and the reports si un saluto veramente a tutti ma vedo però delle nuvole adesso e lontananza speriamo che non sia un cattivo presagio per domani but asolo e so we will see so again have a great day in all these people and everyone too